No, 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 ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, le Lender Pearl, madonna, suona fortissimo, le Lender Pearl. Perché Luke è Luke, 43 centici. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio del Sto Morendo di Fame. Ormai la serie si chiama Sto Morendo di Fame perché effettivamente è quello che ci succede, è caduto giù. Allora, ho tolto la terra sotto gli alberi ed è un test che voglio fare. Ma se io realmente, come appunto ho fatto, tolgo la terra sotto gli alberi ragazzi, ma l'albero, tanto io non è un albero che devo tagliare e ripiantare, questo qua crea i frutti, giusto? Secondo voi, senza la terra, crea lo stesso il frutto? Va bene, lo proveremo. Allora, oh, il mio primo cotone, finalmente, ma io da qua posso farci un altro seme. Ora ragazzi vi racconto tutto, i piccoli cambiamenti. Se notate, ho ingrandito la Nuai, come si chiama? L'Ambara d'Ammo? Non mi ricordo come si chiama. Perché? Ho un altro pezzo di terra. Perché ultimamente mi sta registrando il PC male i video, quindi io credo che più grande si veda meglio. Non lo so, scrivetemi nei commenti, sto cercando di risolvere e fare dei test. Perché è uscita la Gradient Sky prima della Hardcore? Semplice, perché la Gradient Sky ha ricevuto i mille like prima della Hardcore. In questo momento che sto registrando il video, nella Hardcore mancano ancora una centinaia di like. Quindi correte a mettere like in quel video se volete uscire... Se volete uscire, se volete uscire io, semmai... Se volete vedere il prossimo episodio, quindi vi metto il link da qualche parte qua in alto. E vi dirò di più. Da oggi le cose cambiano. Anzi, aspetta, aspetta, aspetta. Prima di rompere questa Maradam, ragazzi, ho messo a cuocere i quattro pezzi che avevamo di Cobblestone. Vi ricordate? Che non me li ha cotti, perché? Perché non mi cuoce... Non mi dire che non mi cuoce la Cobblestone questo robetto qui. No! Mi ha cotto questi, ma non mi ha cotto la Cobblestone. Quindi tu mi stai narrando che questo non va alla Cobblestone. Niente. Volevo farmi succhi di frutta di mele, invece non possiamo. Va bene, nessun problem. Allora, adesso ho piantato più alberi in giro, quindi dovremmo andare a dormire. Sicuramente dovremmo andare a dormire. Questo è poco, ma poco. E che poi quando è poco, rimane poco. Non dice poco e si moltiplica e diventa tanto. Dobbiamo buttare giù quest'albero. Quindi subito, subito, perché ragazzi, alberi ha ridotto, ha ridotto, come si dice? Ha rigetto, ha ribotto, ha ridetto, ha ridetto. Vabbè, stavo dicendo da oggi, ragazzi, nuova politica sul canale. Ah, però vedete che due alberi vicini, quando poi c'è la foglia, non crescerà più questo. Bisogna spostarlo. Nuova politica su questo canale. Se questo video raggiunge 1000 like, cioè non appena raggiunge 1000 like, uscirà il prossimo episodio. Nei prossimi giorni, appunto, quando li riceve. Se invece, per puro sbaglio, non lo so, magari vi convincete di condividere il video e arriva a 2000 like, nello stesso giorno, quindi nello stesso giorno, uscirà un altro episodio nello stesso giorno. Anche a costo di farlo uscire a mezzanotte. Non mi interessa. Perché se voi vi impegnate a lasciare un bel like, io mi impegno a lasciarvi un bel video, no? È così che si fa. Oddio, bel video. Io li faccio. Poi, se piacciono bene, se non piacciono, amen. Se non mettete like, vuol dire che non vi piace. Nessun problema, ragazzi, nessun problema. Mica vengo a casa a spaccarvi le porte di casa. Scherzate. E vi mischio le maniglie con la vicina di casa. Visto e considerato che abbiamo del cibo, visto e considerato che abbiamo della legna, ragazzi, io inizierei a fare una cosa urgentemente. Farò una cosa molto brutta, 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 ma che poi toglierò perché sarà brutta, 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 brutta. Allora, utilizzerò le slab, ok? Anche se so che a questi tempi le slab erano molto buggate. Se vi ricordate, uno dei mondi della Grand Sky l'ho persi molti anni fa proprio per colpa delle slab, perché a lungo andare fanno la gare. Quindi voi dite, Luke, perché fai le slab? Appunto, perché faccio le slab? Facciamo così. Faccio due stacche di slab solo per fare un ponticello che poi magari in futuro toglierò, ok? Solamente per allontanarci un attimo da qui. Ce ne andiamo magari qua dietro? Sì, andiamo qua dietro. Quindi partiamo da qua con le slab perché io mi sa che non posso mettere... Ho fatto una pirlata, adesso non ce l'ho a legna, perché volevo farmi delle torce. Ho fatto una pirlata. Va bene, attendiamo il prossimo coso. Allora, se non erro sbaglio, va bene, il punto è a me che mi interessa. Tanto lo facciamo così, veloce veloce, lo facciamo doppio, ecco. Ma almeno per non cadere noi, potrei farlo anche da uno. Ci allontaniamo, e mi ricordo che nella uno punto coso che siamo qua, se ci allontaniamo di almeno 20 blocchi da noi, iniziano a spawnare i mob ostili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo ancora un po', 8, 9, 10, 11 e 20. Ok, questo è da togliere. Ora, da qua in poi, potremmo iniziare a costruire una piccola 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 mob farm, eh. Una cosa ambress-ambress. Vedete che... Ah, allora gli ho messo un po' stortini. Meglio, su questo ponte la gente non spawna. Fantastico, vedi che sei... Sembro pirletta, ma sono un po' intelligente a volte. Allora, facciamo una piccola 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 mob farm di legno, che poi butteremo giù se non ci serve, ok? È solamente per iniziare. La faccio molto brutta esteticamente, non mi interessa. La facciamo proprio all'antica. Potremmo fare quella gigante con l'acqua che si usava in questi tempi, giusto per rimanere nel passato, per rivangare il passato, ma ci serve materiale. Quando avremo un bel po' di cobblestone, un bel generatore, faremo quella mob farm lì. Per adesso, invece, vorrei farla così. Vediamo un po' se ci viene, eh. Ok, adesso chiudiamo e facciamo... Come facciamo? Come facciamo? Allora, questo no, non mi serve. Dobbiamo, in poche parole, lasciare il buco... C'è una riga in mezzo. Lo facciamo alto 3. Metti caso, spawn anche un nostro amico Endermains. Facciamo così. Non mi ricordo se in questo periodo... Cioè, in questa versione del pacchetto, le slab fanno buio o filtra la luce. Mi sembra che la luce non filtrava con le slab in questo periodo. Solo che così facendo non spawnano i ragni. Lo facciamo più largo. Sentite che è più largo, non c'è più materiale, quindi va bene così. Va bene così. Allora, mettiamo una bella, una bella, una bella, una bella cosa lì. Allora, così è alto 3, vero? Uno, due, tre. Certo, è alto 3, perfetto. Facciamo così. Almeno, boh, qualche scheletro, qualche zombolo. Almeno facciamo qualche questica. È quello l'importante. Operazione, fare un paio di quest. Ok? Riguardanti mob, giustamente. Adesso dobbiamo semplicemente chiudere in questo modico qua. Se andiamo a chiudere così... Ta-tan-che-te! Oh! E dobbiamo farci anche un muretto dietro perché non voglio cadere giù. Voglio vedere però... Cioè, dovrebbe essere buio là dentro. Ora vediamo. Se io premo F7, ci dice... Oh, vediamo un po', vediamo un po'. Tolgo un attimo questo qua. Vediamo che ci dice. Eh no, vedete? Così entra la luce. Ma così dovrebbe essere buio. Dai, non scherziamo. F7 qui è giallo. Vi ricordo che le X gialle e c'è una piccola percentuale che spawnano i mob. Sulla rossa, 100%. Dove non c'è la X, non spawna niente. Et voilà! Questa è la nostra mob farm! Ora il problema è vedere se funziona realmente. Mangiamoci una cotogna qua e vediamo se funziona. Ehm... Devo fare... Ah, screen per la copertina. Ora non ci resterà altro che allontanarci e attendere. Vediamo un po'. Eh, perché non vedo più... Ah, che babbo. F1. Ok! È cresciuto un albero! Final months! Final months! Ora, teniamo d'occhio quell'albero lì e quell'albero lì perché se nasce il frutto, se cresce il frutto, vuol dire che funziona la nostra tattica. Ma non l'ho dita nessuno. Ok? Se non dovesse crescere il frutto per un bel po' di tempo... Vabbè, ahimè, gli rimettiamo la terra sotto. Per il frattempo, io direi di continuare con le slab qui, a questo punto. Ehm... Sì, continuiamo... Tanto, ragazzi, finché mettiamo poche slab, allora è contenibile. Ok? Quando le slab riempi mezzo mondo, inizia poi a laggare. Quindi, io direi di fare così. Ok? Lasciamo così. Bello. Ciulo, 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 ciulo. Così. Ehm... L'ultimo qua. Adesso la mia paura qual è, ragazzi? La mia grande paura è che ora iniziano a spawnare i mob qua sopra. Perché qui, se clicco un F7, eh, 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 attenzions. Attenzions de'attenzions. Tanto qua poi magari cambieremo, non lo so. Adesso non mi sta piacendo tanto l'estetica. Però voi fate finta che è bella. Quindi nei commenti scrivete Che figata! Che bello! Togliamo quest'albero di mezzo. Perché potremmo fare altre mele, soprattutto altre mele, ma altre alberi. E con altri alberi facciamo altri alberi. E con altri alberi facciamo altra terra. E con altro... Se non mangio crepo. Io attenderei la notte. Sapete perché? Non la voglio schippare questa notte. Perché voglio accelerare il... La crescita, cioè la crescita, lo spawn dei mob nella nostra mob farm. Così, ah, vediamo se funziona. E se dovesse funzionare di notte dovrebbero spawnarmi molto di più. Anche se c'è il pericolo che possono spawnare anche qui. È vero, è vero, è vero. Va bene, ho altra legna per farmi altri di quei crook. Gli ho finiti, amico. Bravo, madonna. Ma quanto sei intelligente e furbo che mi capisci al volo. Guarda te, oh. Togliamo questi. Vediamo quanti alberelli ancora abbiamo fatto. Et voilà. Ne piantiamo un altro e abbiamo dieci alberi. Quindi possiamo metterne otto qua dentro. Perché dovrebbero uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Perfetto. Erano otto. Oh. Oh, 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 oh. Cioè non so se ridere o piangere. Non so se ridere o piangere. Io qua ci crepo. Ma forse non ci crepo. Oh, non ho messo le torce sulla mob farm. Quindi non è che sta funzionando la mob farm. Quello, quello, quello ho fatto strano. Quello ho fatto strano. Quello fa... Sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Non voglio buttarlo giù. Voglio ucciderlo. Che buttarlo giù? Voglio ucciderlo. Dove che è quasi morto. Sono morto anche io quasi, eh. Ma anche lui però. No, no, no. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Porca, porca. È vero che perdo tutto. Se mi cade giù la roba io piango in aramaico. Piango. In aramaico. Non posso consumare la... 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 L'ho ucciso. Non mi ha droppato niente. Ma pensavo mi droppasse qualcosa di qualcosina. Ma non mi ha droppato niente. Ma va a cacare. Meh. Allora. Dobbiamo chiudere questo ponte. Assolutamente. Diciamo che la mob farm sta funzionando alla grande. Ma... Aioh. Ma non dentro la mob farm. Fuori dalla mob farm. C'è qualcosa che non ha funzionato, eh. Va bene. Guardate il lato positivo, ragazzi. Abbiamo... La fame piena questa volta. Abbiamo droppato la nostra testa. Perché essendo morti per la prima volta abbiamo droppato la nostra testa. Eccola qui. Super Mario. Cazzo c'è da ridere. Allora. Abbiamo due Rotten Flash. Che non è male. Se io queste le appendo qua... Le posso appendere. Vero? Certo. Quindi dovrebbero essiccare. Quello che mi ricordo. Ma... Aspettate. Si fa qualcos'altro con la Rotten Flash? Vediamo un po'. Uh. Facciamo. Vabbè. La cosa qui. La cosa lì. Facciamo la cosa qui. La cosa là. Facciamo questo qui. Questo là. Uh. Ci da altri Maggot all'interno del sifter. Perfetto. E poi facciamo queste cose qui. Perfetto. Quindi se la appendo non succede nulla. Mi ricordavo qualcosa io. Io direi che possiamo dormire. Che ne pensate? Direi che abbiamo testato la notte e... Ci sono rimaste tre vite. Ragazzi. Ci sono rimaste tre vite. Vedete che alla fine è un Hardcore? Quindi le nostre serie sono ufficialmente due. E questi sono da mangiare. Questi sono da mangiare. Allora. Avvia questo. Questi qua li uniamo. E ragazzi. Questo io me lo giotto. Bluk. E ci riprendiamo la vita persa di prima. Hai capito Mascalzone? Guarda che saltella quello. Brucia. 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 Bruciate. Andate all'inferno. Carciofi. Però se li uccido io... Vabbè. Buttiamo lì giù. Affanciullo. Oh. Ho passato di qua questo? No. Aia. Sì. Sì. Dammi la roba. Sì. E poi ho fatto una cagata ragazzi. Ho consumato l'ascia. Ho fatto proprio una cagata. E qua dentro che succede? Oh. 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 Merry Christmas. Chi c'è? Chi trento chi? C'è qualcuno eh? Vedo un Enderman. Degli scheletri. E non so come picchiarli. Fantastico. Perché? Allora. Ragioniamo. Dobbiamo farci una cosa così. Ok. Mettere altre slabine lì. Quindi facciamoci altre due slab. Le mettiamo lì. Ragazzi ma sta funzionando tutta la perfumanza. C'è ma chi siamo diventati? I baspenzer della situazione qua. Andiamo a metterci. Andiamo a metterci. A farci delle slab. Ma facciamone ancora un pochino. E le andiamo a mettere là in fondo. Quindi dovrebbe funzionare. Ma perché non farci una spada? Dicomi. Ma siamo proprio esauriti con le pannocchie noi eh? A volte. Dobbiamo farci una spada urgentemente. E dammela. Bravissimo. Vedi quanto sei bravo quando vuoi. Ora noi ci mettiamo qua. E forse ho sbagliato. Perché li becco? Non li becco. Sì che li becco. Ma sì che li becco. Ma sì che li becco. Facciamo così. Dovremmo mettere una porta. Per poi entrare e raccogliere il bottino. Una volta uccisi tutti. Quindi. Li uccidiamo tutti adesso. Facciamo una bella portola. Abbiamo anche la terra. Dei Fantastics for you. Là non sta succedendo niente. Quindi vuol dire che non si appendono. Si appenderà qualcos'altro. Boh non lo so. Allora. Mi appendo tutta. Magari funziona qualcosa. Intanto la metto lì. Poi vediamo. Allora. Dobbiamo fare una portola. Che si fa in questo modo. Ce ne droppa una. E non. Ce ne crafta una. E non di più. Come nelle nuove versioni. Dobbiamo farci. Vi hanno detto. La porta l'ho fatta. Dobbiamo uccidere tutti. Quindi. Farci una bella spada. Per fare la spada. Noi abbiamo bisogno di. Il pezzo davanti. Il pezzo dietro. E il pezzo sotto. Quindi il pezzo davanti. Il pezzo dietro. E il pezzo sotto. Il pezzo davanti. Il pezzo dietro. E il pezzo sotto. Qual è il pezzo davanti? Il pezzo davanti. Il pezzo di cac dietro. Quindi. Dobbiamo farne altri. E non ho legna. Sì. Che ce l'abbiamo la legna. Facciamone altri due. Dovrebbero bastare. Aspetta. Io qua c'è qualcosa però. La sword. Ce l'avevo la sword. Ce l'avevo la sword. Ma va. Fancilme. Poi. Facciamo. Allora. Il pezzo davanti. Il mattarello non ci serve. Quello no. 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 Questo sì. L'ho visto prima. Ora ci manca il bastoncino. E qual è il bastoncino? Sarà questo qua. Knife. Questo è coltello. A noi serve. Per la spada. Il. Questo qua. Ah ma è un bastoncino. Semplice. Quindi. Facciamo così. Ok. Via questo. Metto questo. No. Meno male che ho messo la porta. Così almeno. Adesso non possono più ucciderci. Ah ah ah. Papà pero. Non ci possono più uccidere. Allora. Aspettate. Mi consuma però. Mi consuma. Mi consuma. Mi consuma. Eh. Quanta stone mi consuma? Porca miseria. Ma ci conviene farla di stone? Non lo so. C'è di cobblestone. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Perché la spada di pietra. Di legno. Non ce la fa ragazzi. Non ce la fa. In questo pacchetto. Non ce la fa la spada. Capito? Allora. Dobbiamo farla per forza così. Vado? Vado? Vado. Ok. Ce l'ha consumato uno. Dai. Facciamo questo. Perfetto. Ci dà anche la shard. Va bene. La cobblestone la teniamo che è cara. E... Facciamolo. Facciamola. Facciamole. Allora. Un pezzo. Due pezzi. No. Un pezzo. Due pezzi. E bastoncino. Come non ci va. Come non ci va. Come non ci va. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché non va? Perché non va? Perché non va? Non mi dire che ci va. La la. Ragazzi. Guardate. Sbarabams. Altri due cobblestone consumati. Vaffanciule me. Vaffanciule me. Via questo. Facciamo così. Oh. Perfetto. Bravo Luke. Un applauso a Luke. Facciamo un applauso a Luke. Facciamo. Can only be used to make a tool. Cannot be used to make a tool. Vabbè. Thank you. Come buttare via materiali. Perfetto. Tutorial. Questo qua è un tutorial bellissimo. Mi è piaciuto. Sono molto contento. E sono anche soddisfatto di aver fatto questo tutorial assieme a voi. Sono molto 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 deciso. Allora. Facciamo così. Vediamo un po'. Con le mani? No. Con le mani? No. Come possiamo picchiare la gente là dentro? La picchiamo con le... Con le... Con le o... Che fa danno. È l'unica cosa che possiamo fare. Oddio. Il martello. Con il martello. Il martello però è craftabile. Eh. Aspetta. Facciamo un altro martello. Le picchiamo col martello ragazzi. Dai. Utilizziamo il martello come picchia d'or. Arriviamo. Io e Luke. Siamo in due eh. Arriviamo. Arriviamo. Siamo quasi lì eh. Sono quasi arrivato. Mi sto avvicinando eh. Non hai paura? Ehi. Allora. Facciamo così. Togliamo questo. Tanto non dovrebbero uscire. Li picchiamo tutti. Quindi zombie e scheletri. Puliamo la situazione. E facciamo una porta laterale. Direi. Ok. Questo va benissimo per picchiare. Ha voglia. Ora ho paura per... Non dovrebbe uscire questo vero? Se mi droppa la ender pearl. Guarda. Siamo a cavallo con le marmotte in mezzo alle montagne. Con Heidi che saluta tra le tine. Nesto è l'ender pearl. Madonna. Suona fortissimo. L'ender pearl. L'ender pearl. L'ender pearl. Perché questo non riesco a picchiarlo? Io. Ehi. Vieni qua. Madonna. Se cadevo giù. Se cadevo giù. Non so in che lingua ridevo. Ma ridevo. O piangevo. Boh. Non lo so. Ok. Muori. Oh. Allora. Prima che svanisce tutto. Perché vedo che potrebbe sparire. Oh. Guardate. Che bellezza al bagno. Che bellezza al bagno proprio. Facciamo una bella portola qua. In questo modo. E wellee. Qui ci rimettiamo la nostra. Oddio. Ma così dovrebbe essere buio lo stesso. Vero? Dovrebbe essere buio lo stesso. Vedremo. 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 Ragazzi. La nostra mob farm sta funzionando. Egru. Egru. Amu. Eantue. Guardate. La nostra tattica. La tecnica. Che vi ho insegnato quest'oggi. Ragazzi. Sì. Mia nonna diceva. Mio nonno. Impara l'arte. E mettila da parte. Guardate. I frutti stanno crescendo. Eh. Senza la terra sotto. Quindi possiamo togliere le altre terre per il momento. È vero che è una cosa un po' traiardina. Un po' forzatina. Un po' burattina. Però. A noi serve la terra. Eh. Mica micio micio. Miau miau qua. Vediamo di là. Di qua. Bello qua. Neanche uno. Continuo a togliere foglie. Perché ci servono gli alberelli. Direi che la terra è fondamentale. Ragazzi. Scommettete che adesso che mi serve la cobblestone. Che l'ho finita. Il coso lì. Ci inizia a dare. Quanto scommettete? Ci inizia a dare cibo? Scommettiamo? Scommettiamo un like. Che ci dà il cibo? E buttiamo giù anche queste qua. Oh. Che bello. Quando iniziamo a prendere forma. Fino all'episodio scorso. Era. Sto morendo di fame. Sto morendo di fame. E invece. Oggi. Guardate un po'. Tutti belli. Contenti e beati. Che stiamo proseguendo. Dopo guardiamo anche. Diamo uno sguardo alle quest. Quelle dei mob. Perché secondo me. Qualcuna l'ho fatta. Et voilà. Uno e due. Ok. Possiamo finalmente mettere. Aspetta. Arriva la notte. Non voglio farmi un'altra ondata. Per favore. Oh. Avete visto sopra? Avete visto sopra? Io l'ho visto eh. Le bistecche marce. Sono diventate. Mangiabili. Mi sa. Allora. Avevo ragione io. Avevo ragione io. Sono mangiabili? Sì. Vabbè. Danno mezzo coso. Però sono mangiabili. Dai. Qual è la stronzata che ho fatto? Che me ne servivano mi sa dieci per la questica. E io ne ho tre. Guardate. Guardate attentamente. Guardate attentamente la questica. Guardate. Mi state guardando? Sì. E invece l'hanno fatta. Ci dà mezzo cuore e quattro mele. Ma c'era l'altra questica. Uh. Le ender pearl. Fantastico. C'era l'altra questica. Eccolo qua. Dieci. Rotter flash. Ragazzi. Io faccio manual sub limit. Siamo al 30%. Al 50%. Perché erano 5 e 10. A quest'ora. Quelle quattro. Eram. Carica di quella trotella. Porca di quella trotella. Allora. Andiamo a vedere la mob farm. Secondo me no. Perché. Beh. È giusto. È giusto. È giusto. No. Non è giusto. Perché fa così. Perché fa così. Cioè così mi entra la luce. Non mi dire che la porta fa entrare la luce. La porta fa entrare. Ah. Ok. Eh. Mi sa che la porta fa entrare la luce. Ragazzi. Facciamo così. Mi sa che la porta fa entrare la luce. E allora. Eh. Togliamo la porta. Semplice. Eh. Proprio. Intanto ho finito l'ascia. Ho finito l'ascia. Questa è una tragedia. Aver finito l'ascia. Questa è una tragedia. Per esempio. Vediamo un po' se riusciamo a fare buio. Ok. Sì. Sì. Era la porta. Ragazzi. E niente. Non possiamo fare la porta. Perfetto. Non c'è niente di che. Però abbiamo un'altra vita da mangiucchiarci. Abbiamo anche altro cibo da sgranocchiarci. E abbiamo anche... Tua madre la conoscono in paese. Aspetta. Devo dirglielo meglio. Tua madre la conoscono giù in paese. Aese. Eese. Eese. Ci raccogliamo anche que... Ma l'ho rotto. Ah no no. Ok l'ho preso. No. Qua invece non sta funzionando. Quindi ho quell'albero. Lo buttiamo giù. Tanto questi due producono abbastanza. Per il momento. Abbiamo anche una cervella. Che ci serve a... Le cervelle una volta si vengono per la towncraft. Ah ma è vero. È della towncraft. Uh ma abbiamo la towncraft. Quella vecchia 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 vecchia. E che libidine proprio. Mi viene da ridere. Ultima cosa della giornata. Andiamo a vedere. Se ho vinto io la scommessa o voi. Vediamo un po'. Se... Avete visto lo scheletro? Che si è tenezzato? Vai. Vado. Vediamo un po' che ci dà. Ci dà. Ci dà. Ci dà. Ci dà. Ci dà. Ci ha dato? Dai. L'ho visto. L'ho visto ragazzi. L'ho visto. L'ho visto. Dai. Che ci ha dato? Ma ha dato due cose. Della stone. E che ci ha dato? Aspetta. R. No aspetta. Siev. No adesso mi arrabbio. Siev. Ok. Questo qua. Con la U. Vediamo un po' che fa. Con la terra. Ci dà. Tutta questa roba. E no. Allora solo. La stone ci ha dato. No avete ragione voi. Allora. Avete vinto voi. No allora ne faccio un'altra. Vediamo. Ma lontano. Così almeno vediamo cosa c'è a terra. Vediamo un po'. Il manabin. Bin bin salamin. Ecco qui il manabin. Da Luke è tutto. Vi saluto in. Ci vediamo nel prossimo video in. Ciao. 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 Autore dei sorrisi